L'antico Borgo Sant'Agostino di Caltagirone, una delle zone più antiche del centro storico, rivive sotto il segno della street art. L'evento, promosso dall'associazione Mansourcing, ha consentito a un gruppo di oltre dieci artisti provenienti d'oltre Sicilia di esprimere la loro creatività nei prospetti di alcune antiche abitazioni. La risultante è stata quella di uno scenario unico e suggestivo che sta gettando di già le basi ai fini dell'individuazione di un percorso all'interno del quale potranno muoversi i turisti dove aver risalito i 142 gradini della scalinata. Demetrio Di Grado, esponente dall'associazione Mansourcing di Caltagirone. L'obiettivo è proprio quello di riqualificare il territorio, soprattutto rendere giustizia a quello che oggi è un'arte illegale, rendere legale avendo le autorizzazioni da parte dei residenti, da parte del comune per poter rendere colorato il quartiere. Oggi siamo il quartiere Sant'Agostino denominato Borgo Contemporaneo. Noi oggi vogliamo in qualche modo dare il nostro contributo in questa cittadina per poter colorare e renderlo come un'attività turistica, come se fosse un altro luogo di incontro per i giovani e per le generazioni future. La street art di Borgo Sant'Agostino, che si avvale del patrocino dell'assessorato al turismo del comune di Caltagirone, tende a favorire la socializzazione e a combattere il degrado, migliorandone la percezione anche per i turisti che lo visiteranno. Fabrizia Palazzo, assessore alla cultura del comune di Caltagirone. Sì, è una splendida iniziativa alla quale abbiamo aderito con entusiasmo e con grande piacere. È una parte del centro storico pressoché sconosciuta, nella quale ci sono peraltro molte abitazioni vuote purtroppo, è comunque una parte sconosciuta che pochi conoscono e che in questa maniera viene valorizzata. Sono stati interessati i bambini, sono stati interessati tutti i residenti del borgo, che hanno aderito con entusiasmo all'iniziativa, concedendo l'utilizzo dei loro muri, delle loro pareti, delle loro porte.